Esecuzione in stile mafioso ieri sera nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele a Gela. Come negli anni di piombo, quando si sparava a qualsiasi ora del giorno in ogni zona dinanzi agli sguardi attoniti della gente. Così è successo ieri sera, poco prima delle 20. Freddato con 5 colpi di pistola calibro 7,65, Domenico Sequino, 56 anni, tassista. La vittima, raggiunta dai proiettili in diverse parti del corpo, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Sono stati sei colpi sparati, così come certificato dagli uomini della scientifica dei carabinieri del reparto territoriale. Uno è andato a vuoto. La modalità dell'agguato, come dicevamo, non lascia alcun dubbio. Chi ha agito non doveva lanciare un avvertimento, doveva uccidere. E così è stato. Secondo le testimonianze raccolte dai militari dell'arma, diretti dal maggiore Valerio Marra, sarebbero stati in due a portare a termine l'efferato omicidio. Entrambi col volto travisato da caschi integrali e in sella ad un motorino. Uno guidava e l'altro sparava. Domenico Sequino stava chiacchierando con alcuni amici dinanzi al sagrato della chiesa madre, a pochi passi da un presepe itinerante, quando è stato colpito mortalmente. La corsa in ospedale si è rivelata inutile. C'è stato il fuggi-fuggi generale di chi in quel momento si trovava nella zona teatro del gravissimo episodio di sangue. C'era chi passeggiava, c'era chi faceva acquisti di Natale. Un omicidio avvenuto in pieno centro che, come sottolineavamo, ci riporta indietro di tanti anni fa, quando chi impugnava un'arma non aveva scrupoli a sparare dinanzi a decine di persone, alcune delle quali furono anche uccise, vittime innocenti di una guerra tra clan che ha insanguinato le strade cittadine. I carabinieri di Gela stanno lavorando alla cremente per dare un volto ed un nome agli assassini di ieri sera. Si cerca di capire il movente, si indaga nel passato della vittima sulle sue frequentazioni. Domenico Sequino era rimasto coinvolto anni addietro in due operazioni antimafia. Nel 2006 fu indagato dalla DIA di Roma nell'ambito del blitz Cobra. Fu assolto. Nel dicembre dello stesso anno il suo nome figurò nella maxi operazione Tagli Pregiati. In quell'occasione patteggiò la condanna per il reato associativo. La vittima lascia la moglie e tre figli.